e stavolta nella fase a gironi di Champions League nella prima giornata della Pool e la squadra di Bernardi è andata a dettare legge in Turchia seguita da 16 irriducibili tifosi arrivati fino ad Ancara contro la formazione di casa la Sir ha dominato 3-0 giocando bene alzando l'asticella nei momenti chiave del match 19-25, 23-25, 23-25 i parziali meglio non poteva iniziare l'avventura per Birarelli e compagni che già comandano il girone come vedete con tre punti in attesa dell'altra sfida della prima giornata fra i belgi del Roeslare e i russi del Belgorod prossimo impegno come vedete riepilogato in grafica per la Sir Perugia il 22 dicembre al Palevangelisti arriva il Roeslare per la seconda giornata e poi altra gara interna ma l'anno nuovo nel 2017 il 18 gennaio contro il Belgorod e quindi è iniziata la grande avventura della formazione di Bernardi nell'Europa che conta e la